Salerno si è sempre vantata di essere una città pulita, di aver raggiunto primati nella raccolta differenziata, ma di fatto negli ultimi anni il comune capoluogo conquista il distintivo di città sporca e con alcune zone in pieno degrado. Se da un lato si punta l'indice contro i cittadini responsabili in molti casi di una scarso assente attenzione nel conferire rifiuti, dall'altra ci si attendeva una più efficace pulizia e gestione della forza lavoro con il potenziamento dell'organico di Salerno pulita avvenuto negli ultimi mesi con il passaggio di non pochi operai dalle cooperative. È quanto denuncia il consigliere comunale della nostra libertà Antonio Camarota all'indomani della richiesta con gli altri consiglieri dell'opposizione Roberto Celano di Forza Italia, Peppe Zitarosa della Lega e Ciro Russomando di Attiva Salerno di un intervento del prefetto e di un passo indietro dell'assessore comunale all'ambiente Angelo Caramanno invitato a dimettersi. Che la città è sporca credo che sia un dato incontestabile, che i cittadini salernitani siano maleducati, scostumati, può esserci però bisogna far pace con se stessi o questo è e allora così era anche prima tanti anni fa quando invece si vantava una città pulita oppure probabilmente più che di cattiva educazione c'è una mala gestione nella gestione della cosa pubblica. Se dopo tre anni noi ci ritroviamo con la stessa situazione di prima con il potenziamento di Salerno pulita ma il depotenziamento della salute pubblica perché di questo si tratta e fu proprio il presidente della regione ad accusarsi stesso dicendo che la città era sporca, credo che bisogna prenderne le dovute conseguenze. Massimo rispetto e amicizia per la persona dell'assessore ma se tanto mi da tanto è anche giusto passare la mano. Grazie